tutte le mattine alle 7 di mattina viene qua sotto casa mia alle 7 ciro fai vedere cosa dice fai vedere cosa dice fai vedere il microfono cosa dice ma no alle 7 alle 7 e mezzo 8 meno 20 lo fai sempre anche la domenica pure i giorni festivi anche i giorni festivi bravo guardate ciro è proprio la voce di napoli e io lo dovevo a ciappare un giorno e lo ha ciappato vai ciro guarda la telecamera ma uno e 7 a mattina non sono le 7 ma sono le 8 ciao